I cammei sono opere d'arte preziose, amate dai collezionisti e dagli appassionati di gioielli in tutto il mondo. La loro lavorazione artigianale e il fascino intramontabile li rendono oggetti di grande interesse per molti. Tuttavia, il mercato è pieno di imitazioni e falsi, quindi è essenziale conoscere i dettagli e i segreti per identificare un autentico cammeo. In questo articolo, un gioielliere esperto condivide le sue conoscenze per aiutarti a scoprire come distinguere un vero cammeo da un falso. Caratteristiche distintive di un vero cammeo Materiale autentico Un cammeo autentico è realizzato in pietre preziose, come conchiglia, agata o corallo. Controlla attentamente il materiale. La qualità della pietra influisce sulla nitidezza dei dettagli e sul suo valore. Strato a rilievo I cammei autentici hanno un disegno a rilievo rispetto al fondo piatto della pietra. Questa tecnica di incisione è indicativa di un lavoro artigianale accurato. Dettagli finemente definiti Un vero cammeo presenta dettagli nitidi e ben definiti. L'abilità dell'artigiano si riflette nella precisione dei tratti, dei capelli e delle pieghe del vestito. Consistenza delle linee Le linee che formano il cammeo dovrebbero essere uniformi e senza incertezze. Le imperfezioni potrebbero indicare una falsificazione. Colore naturale I cammei autentici utilizzano la gamma naturale di colori della pietra. Evita cammei con colori troppo vivaci o innaturali. Luce e trasparenza I cammei autentici mostrano una leggera traslucenza, il che permette di vedere lievi sfumature di luce quando vengono tenuti contro una fonte luminosa. Retrolavorato Controlla anche la parte posteriore del cammeo. Di solito, i cammei autentici hanno una parte posteriore lavorata con incisioni o intagli decorativi. Peso I cammei genuini sono generalmente più pesanti dei falsi, poiché sono realizzati in materiali naturali. Dettagli tecnici di un vero cammeo Lavoro a sbalzo Boerleaf Un cammeo autentico è realizzato tramite una tecnica chiamata lavoro a sbalzo o Boerleaf. Questa tecnica prevede l'incisione di uno strato superiore della pietra per creare una figura rialzata rispetto al fondo. Maestria dell'artigiano La qualità e la precisione dei dettagli dipendono dall'abilità dell'artigiano. Un cammeo autentico mostrerà una maestria nella lavorazione e un senso artistico unico. Aspetto 3D Un cammeo autentico sembra avere una profondità tridimensionale, con le figure che emergono dalla superficie della pietra. Questo effetto è il risultato di una scultura artigianale meticolosa. Faccia di profilo La maggior parte dei cammei rappresenta un volto o una figura in posizione di profilo. Questa caratteristica è comune nella tradizione del cammeo. Uniformità dei colori I cammei autentici presentano colori uniformi e naturali, senza macchie o striature irregolari. Grana della pietra La grana della pietra dovrebbe essere regolare e coerente su tutta la superficie del cammeo. Irregolarità nella grana possono suggerire una falsificazione. Sensazione al tatto Un vero cammeo ha una sensazione liscia al tatto. Passando leggermente il dito sulla superficie, dovrebbe essere possibile percepire una morbidezza caratteristica delle pietre lavorate a sbalzo. Leggerezza del cammeo Un cammeo autentico avrà una densità specifica compatibile con il tipo di pietra utilizzata. Se sospetti che il cammeo sia realizzato con materiali sintetici o di bassa qualità, verifica la sua densità per conferma. Decorazioni artistiche Alcuni cammei autentici possono essere decorati con intarsi o piccole gemme per enfatizzare i dettagli o per aggiungere un tocco di lusso. Ricorda che il riconoscimento di un vero cammeo richiede esperienza e pratica. Mentre esplori questo affascinante mondo di gioielli, tieni a mente queste caratteristiche tecniche per aiutarti a distinguere un cammeo autentico da uno falso. Buona caccia al cammeo perfetto!